Mentre Montero diventa ufficiale, il Monopoli si appresta a salutare Daniele Donnarumma e accoglie Eio Zambataro. Partiamo dallo spagnolo, ex Biceglie, contratualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzioni al 2022. Il centravanti classe 89 nella sua carriera vanta 204 presenze e 50 gol nel suo paese di origine, con le maglie di Saragozza, Acala Zamora, Real Jain, Cartagena, Almeria 2, Burgos, Lealtà de Marbella. Nell'ultima stagione, la prima in Italia, ha collezionato 28 presenze e 9 reti con il Biceglie. L'attaccante ha raggiunto la squadra nel ritiro di Villa d'Agri, ritiro che sta lasciando Daniele Donnarumma, che dopo tre anni in bianco-verde si trasferirà a titolo definitivo al Cittadella in Serie B. In cambio al Monopoli arriverà una somma che sarà reinvestita sul mercato per portare in Puglia una serie di giocatori tra cui l'italo-etiope Eio Zambataro, esterno di fascia a scuola Atalanta, che può essere impiegato all'occorrenza su entrambe le corsie. Classe 98 arriva in prestito dall'Atalanta e le sue prestazioni faranno accedere alla società al contributo per il minutaggio. Zambataro conta un campionato di C vinto con il Padova, 11 presenze in B con i biancoscudati e 8 gare nella passata stagione a Ravenna, dove si era trasferito a gennaio e purtroppo il retrocesso dopo i play-out persi contro il Fano.